Possiamo partire con il primo speaker. Informare, coinvolgere e attivare. Sono queste le tre parole chiave che Laura Franceschi, content manager e copywriter di Green Marketing Italia, ha scelto di mettere al centro del proprio speech, con il quale ci introdurrà nel mondo della sostenibilità definendone i contorni e contestualizzando questo epocale e necessario cambio di paradigma nel mondo delle imprese, delle istituzioni e anche delle nostre comunità. Green Marketing Italia è un'iniziativa senza scopo di lucro promossa dallo studio Perazza, azienda di comunicazione integrata che informa, coinvolge e attiva le imprese e altri settori sul tema della sostenibilità partendo dalle tre P. Qualcuno sa quali sono le tre P? Io comunque cercherò di, proverò ad interagire un po' con voi. People, quindi persone, planet, pianeta e profit, ovvero lo scopo di lucro che l'azienda Perazza non ha messo invece in questo progetto. Laura Franceschi, a lei la parola. Questo è un telefono. Anzi, per essere più precisi, questo è uno smartphone. Un po' vecchiotto, un po' malandato, ma è uno smartphone. La precisazione non è fatta a caso perché, io non so, ma non credo che molti di noi userebbero le stesse parole che si usavano fino a 30, 20 o anche solo 15 anni fa per definire un telefono parlando di un aggeggio come questo. Bene, per la sostenibilità è un po' la stessa cosa. Il concetto di sostenibilità è, diciamo, apparso alla ribalta a livello globale verso la fine degli anni Ottanta. Ma, nel corso del tempo, ha avuto un'evoluzione, se non altro perché le sfide che il tema della sostenibilità oggi ci mette davanti sono diventate via via sempre più ampie e sempre più complesse. Il primo documento a cercare di dare una definizione di sostenibilità è stato il rapporto Brundtland del 1987. Un documento pubblicato dalle Nazioni Unite in cui, per la prima volta, si definisce la sostenibilità come la capacità di utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione per far fronte alle nostre esigenze senza compromettere la possibilità per le generazioni future, e vista la data del rapporto si parla di voi, di soddisfare le proprie esigenze. Un altro aspetto fondamentale che questo documento individua sono i tre pilastri della sostenibilità. Sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Parlando di sostenibilità ambientale, che probabilmente è il tema con cui voi avete più familiarità quando si parla di questo argomento, perché se si parla di sostenibilità la prima cosa che viene in mente è il green. Dicevo, parlando di sostenibilità ambientale, si parla della capacità di produrre, agire, interagire nel rispetto dell'ambiente, tutelando le sue risorse e per quanto possibile reintegrando, restituendo le risorse che ci troviamo ad utilizzare. Per sostenibilità sociale si intende la capacità di creare benessere e di diffonderlo, di dividerlo tra tutti, tra il più ampio numero di persone possibili. Infine, per sostenibilità economica si parla della capacità di un sistema economico di generare lavoro e benessere, e profitto e prosperità in modo continuativo e durevole, reddito, lavoro, profitto, prosperità. Questo vuol dire che la sostenibilità è anche una faccenda da aziende. A pensarla così è anche Michael Porter, economista americano e professore ad Harvard. Nel 2011 lui ha proposto l'espressione generare valore condiviso. Che cosa vuol dire? Parlando delle aziende significa che un'impresa nella sua attività con scopo di lucro, quindi nel perseguire il profitto, ha anche, secondo lui, il dovere di introdurre delle considerazioni che hanno a che fare con lo sviluppo e il benessere della comunità in cui opera e delle persone che ci vivono. È un cambio di paradigma rispetto al passato. Prima si parlava di responsabilità sociale e di impresa in maniera un po' diversa, ossia l'impresa faceva profitto e poi in aggiunta si occupava magari anche di questioni ambientali, del benessere della comunità e via dicendo. Qui invece Michael Porter dice Un'azienda non deve pensare agli aspetti legati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale come a un di più rispetto al suo fare business, ma come un elemento strategico che ha pari dignità rispetto alla sacrosanta aspettativa, al sacrosanto obiettivo di fare profitto e di remunerare gli investitori. Non è una cosa in più, ma un elemento costitutivo della strategia delle imprese. E le imprese lo fanno da sole? No, in realtà le imprese sono sostenibili insieme ad alcuni soggetti e per alcuni soggetti. Li vediamo insieme molto velocemente. Ecco, li vedete qui in questo schema, chiamiamolo così, a fiore. Sono tutti soggetti con cui le aziende entrano in contatto nel momento in cui sviluppano le loro attività. Abbiamo i fornitori, i consumatori, gli investitori che abbiamo già citato, i lavoratori, i collaboratori delle imprese, i governi. Le imprese, nella loro azione di generare valore condiviso, lavorano per questi soggetti, ma anche in risposta alle sollecitazioni di questi soggetti. Faccio un esempio, un esempio che ci tocca da vicino tutti quanti, perché bene o male tutti noi siamo clienti consumatori. Qualche anno fa, diverse aziende del settore della moda sono state accusate, con accuse verificate, di utilizzare manodopera minorile per la realizzazione dei loro prodotti. Che cosa hanno fatto i consumatori? Hanno smesso di comprare da quelle aziende. Di conseguenza, un mancato rispetto di quelli che sono i criteri di sostenibilità si è ritorto contro l'azienda. Perché? Perché i consumatori hanno avuto il potere, la possibilità di influire sulle decisioni e di in qualche modo giudicare, valutare e agire di conseguenza una maniera di operare dell'azienda che non era coerente con i valori di sostenibilità che sul mercato per i clienti e per i consumatori, come vedremo tra pochissimo, sono sempre più significativi. Parlando invece degli ambiti in cui un'azienda che opera per la sostenibilità può avere un impatto, se ne contano cinque. La governance, intesa come il governo dell'impresa, la maniera in cui un'impresa prende le proprie decisioni. Un'azienda sostenibile lo fa in modo trasparente e nei modi, nei tempi e secondo le procedure possibili in maniera quanto più adatta a coinvolgere anche i propri collaboratori nella presa di queste decisioni. Seconda area di impatto, le persone, i lavoratori. Si parla delle iniziative delle imprese, ad esempio, per favorire il bilanciamento tra vita professionale e vita privata, oppure per garantire la presenza delle donne nei centri decisionali delle imprese. Sono solo alcuni esempi e vado veloce perché il tempo è poco, però penso che poi alla fine anche i relatori che mi seguiranno su questo palco e che provengono dalle imprese si soffermeranno su uno o più di questi aspetti, per cui io qui, appunto, come vi dicevo, vado in fretta. I clienti, abbiamo già parlato del rapporto dialettico tra imprese e clienti e consumatori. L'ambiente, che è, come dicevamo, il primo forse ambito che vi è più familiare parlando di sostenibilità, ossia la capacità di fare impresa tutelando l'ambiente, promuovendo il rispetto e l'uso efficiente delle risorse, anche con considerazioni, con metodi di produzione che hanno a che vedere con quella che si chiama economia circolare. Per esempio, la possibilità di reimpiegare le materie prime, o meglio, chiedo scusa, gli scarti o i sottoprodotti della produzione come materie prime in un nuovo ciclo produttivo. le risorse vengono reimpiegate e aumentano la loro permanenza in circolo nel sistema economico e produttivo. La comunità, le imprese agiscono anche per la comunità. Comunità che può essere locale per le imprese di minori dimensioni, o globale nel caso delle grandi multinazionali. Tutti i progetti che le imprese fanno per sensibilizzare la comunità su determinati temi, a seconda del tipo di attività. Ad esempio, un'azienda alimentare che promuove iniziative sulla sana alimentazione. Oppure la scelta di fornitori locali da parte dell'impresa per creare benessere per la comunità. O ancora, immagino che alcuni di voi abbiano fatto o faranno anche delle iniziative di stage, tirocini o formazioni in azienda. Ecco, tutto questo è parte dell'investimento in sostenibilità che le imprese fanno per le comunità dove operano. Ma, e qui torno a parlare del rapporto tra imprese e consumatori, tra le grandi differenze che il concetto di sostenibilità sta abituandoci a considerare, c'è anche una differenza fondamentale nel modo in cui i clienti hanno delle aspettative nei confronti delle aziende per quel che riguarda la sostenibilità. Fino a qualche anno fa il focus era sul prodotto. I consumatori cercavano prodotti sostenibili. Adesso le aziende vengono valutate sempre di più nel loro complesso per le azioni che svolgono attraverso i loro investimenti e che hanno un impatto nelle cinque aree di sostenibilità che vedevamo prima. Quindi si passa dalla richiesta da parte dei consumatori del mercato di buoni prodotti intesi come prodotti sostenibili a buone aziende. Nella parte di destra, sinistra, insomma questa parte qui della slide vedete una serie di marchi di sostenibilità. Ad esempio il marchio FSC. C'è qualcuno di voi che lo conosce? FSC è un marchio che, mettendola semplice, viene assegnato ai prodotti che derivano dal legno come materia prima, ad esempio la carta, i mobili e via dicendo, in cui il legno proviene da foreste gestite in maniera sostenibile per l'ambiente e per le comunità in cui queste foreste si trovano. Oppure probabilmente avete visto in alcuni elettrodomestici a casa la certificazione Energy Star per i prodotti che hanno un ridotto consumo di energia. Ecco, questo è per quel che riguarda la parte dei prodotti. Ma come dicevamo, la sostenibilità è un concetto che riguarda le aziende nella loro vita strategica, nelle loro decisioni, nella loro organizzazione a tutto tondo. Per cui ad esempio in Italia nel 2015-2016 è entrata in vigore la normativa sulle cosiddette società benefit. Che cosa sono le società benefit? Sono società che all'interno del loro statuto inseriscono oltre agli obiettivi di business anche i cosiddetti obiettivi di beneficio comune. Possono essere obiettivi legati alla sostenibilità ambientale, alla promozione culturale, alla promozione della parità di genere oppure anche più di uno di questi obiettivi. Cosa fanno queste imprese? Insieme al loro bilancio depositano in Camera di Commercio anche la cosiddetta relazione di impatto. È un documento che, tenuto conto dell'obiettivo di beneficio comune che queste aziende hanno scelto, descrive tutte le azioni che nel corso di un anno le imprese hanno fatto per arrivare a raggiungere questo obiettivo. e non solo le descrive, le misura. Questo vuol dire che, ad esempio, io sono un'azienda che vuole impegnarsi per la sostenibilità ambientale e lo fa con investimenti in campo delle energie rinnovabili. Bene, io quest'anno ho aumentato del 10% l'energia rinnovabile per autoconsumo che ho prodotto ma alla fine della mia relazione di impatto io faccio una cosa ancora più importante come società di benefit. Io identifico degli obiettivi per l'anno seguente. Ad esempio, il prossimo anno voglio arrivare ad un 5% in più rispetto al 10% prodotto quest'anno di energia rinnovabile e lo dichiaro. Che cosa vuol dire questo? Che l'anno successivo l'impresa pubblicherà la propria relazione di impatto e si potrà verificare se l'obiettivo che si era dato l'anno precedente è stato raggiunto oppure no. Per bacchettarla in realtà no ma perché siamo aziende reali in un mondo reale e il percorso verso la sostenibilità è un percorso in divenire che va sempre avanti un passo dopo l'altro e quindi misurare e rendere conto in modo trasparente è importante perché si dà la misura di un percorso e si dà l'esempio e l'esempio è molto importante perché un esempio vale molto vale più di mille parole come dice il proverbio. Una prospettiva simile è quella delle B Corp. In questo caso parliamo di una certificazione appunto la certificazione B Corp che è valida a livello internazionale. A rilasciarla è un'organizzazione con sede negli Stati Uniti e bracci operativi in tutto il mondo che si chiama B Lab. Le aziende che vogliono certificarsi come B Corp si sottopongono ad una verifica attraverso un questionario creato proprio da B Lab e che ha come temi le cinque aree di sostenibilità che vedevamo prima. Se l'azienda con questo questionario riesce ad arrivare almeno a 80 punti e a dimostrare che le sue risposte sono effettivamente fondate su dati e prove reali e B Lab chiede di fornire queste prove possono ottenere appunto l'azienda ottiene la certificazione B Lab una certificazione che corrisponde al secondo marchio che vedete lì sotto Certified B Corporation è un marchio uguale per tutte le aziende del mondo che si sta pian piano diffondendo e che vedete sempre di più anche qui in Italia nei siti di alcune aziende che si sono certificate B Lab e anche su alcuni prodotti. forse qualcuno di voi avrà familiarità con questo schema invece a quadratini colorati di nuovo c'è qualcuno che lo conosce l'ha visto anche solo per sentito dire o per visione nelle strade o sui siti ecco qui quello schema a quadratini rappresenta i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 è un programma per obiettivi che le Nazioni Unite si sono dati e che gli stati membri delle Nazioni Unite hanno sottoscritto tra gli scopi da raggiungere entro il 2030 ecco perché l'agenda 2030 ci sono ad esempio l'azzeramento della povertà l'accesso a un'istruzione di qualità l'utilizzo di risorse e la produzione di risorse di energia rinnovabile in maniera sempre più spinta sempre più incrementale e via dicendo a questi 17 obiettivi principali corrispondono 169 sotto obiettivi vi faccio un esempio così capite bene capite meglio perché ne parlo in relazione alle aziende prendiamo di nuovo il tema dell'energia rinnovabile uno dei sotto obiettivi è incrementare in maniera significativa l'utilizzo delle risorse di energia rinnovabile nelle imprese ora un'azienda che decide di investire in sostenibilità ambientale e magari ha fatto degli investimenti in fotovoltaico in produzione di energia rinnovabile in processi che promuovono il risparmio di energia si trova di fronte a questo obiettivo e dice ah ma io sto facendo qualcosa per contribuire a raggiungerlo ed è per questo che i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile sono parte integrante a livello visivo e a livello di concetto dei cosiddetti bilanci di sostenibilità delle aziende che cosa sono? Sono qualcosa di abbastanza simile anche se più articolato della alla relazione di impatto di cui parlavamo prima dei documenti in cui l'azienda presenta tutte le iniziative fatte in un anno in tema di sostenibilità le racconta e le misura ovviamente queste iniziative possono riguardare vari ambiti tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 per cui se ad esempio un'azienda ha portato avanti delle iniziative di formazione per i ragazzi o per i propri dipendenti che possono aumentare il loro livello di professionalità le loro conoscenze in tema di formazione e poi impiego nella loro vita professionale allora puoi dire bene io ho contribuito all'obiettivo 4 istruzione di qualità quando descriverò nel mio bilancio di sostenibilità questo tipo di azioni ci metterò vicino quel quadratino perché? perché ormai questo schema è diventato uno schema conosciuto uno schema ampiamente adottato dalle imprese di tutto il mondo e quindi anche a livello di comunicazione e di immediatezza della comprensibilità di uno schema del genere diciamo che è un buono strumento ora i metodi i modi in cui un'azienda può misurare la propria sostenibilità con dati e cifre sono molto più accurati di uno schema di questo genere e probabilmente ne parleremo anche negli interventi successivi però questo è un primo schema che ha il merito di essere ormai conosciuto da tantissimi e quindi molto applicato tra le aziende che hanno pubblicato il bilancio di sostenibilità ce ne sono alcune molto note ma sono veramente tantissime io qui ho citato questo senza voler essere offensiva nei confronti di nessuno perché si tratta di aziende note e perché nel sito di Green Marketing Italia noi abbiamo presentato nel nostro blog diversi casi di bilancio di sostenibilità delle imprese io non ne ho trovato nessuno che sia top 100% a livello di punteggio su tutti gli ambiti di sostenibilità proprio perché come dicevamo prima siamo imprese sono imprese reali in un mondo reale ma ciascuna di queste ha un plus per alcuni tipi di contenuti per esempio OVS da diversi anni è prima in questa classifica il Global Transparency Index che premia la sostenibilità delle aziende nel settore della moda chiedo scusa la trasparenza delle aziende nel settore della moda la trasparenza è un aspetto della sostenibilità non sono tutti ma questo è un buon esempio di azienda trasparente a livello di trasparenza io ho insegnato anche la COP per una questione molto semplice mi è piaciuto molto il modo in cui tratta i propri microfallimenti lei è molto chiara come azienda la COP nello stabilire i propri obiettivi ma è anche altrettanto chiara nel dire bene non sono arrivata dove volevo vi spiego perché e vi spiego le azioni che voglio mettere in campo per arrivarci il prossimo anno una parte di quello che noi facciamo come Green Marketing Italia è proprio dare visibilità alle buone pratiche delle imprese in futuro e stiamo iniziando a farlo abbiamo l'ambizione di diventare una vetrina per le aziende e per le loro buone pratiche di sostenibilità i bilanci di sostenibilità le iniziative e vorremmo partire proprio dalle aziende del nostro territorio perché perché da cosa nasce cosa e da esempio nasce collaborazione anche il fatto di aver coorganizzato e di essere presenti oggi per noi vuole dire cercare di far parlare del tema della sostenibilità nel nostro territorio cercare di mettere insieme gli imprenditori gli imprenditori sono persone che fanno impresa ma per carattere vocazione abitudine sono abituati a capire sono abituati a capire quali opportunità possono arrivare dalla collaborazione noi come Green Marketing Italia vorremmo aiutare le aziende le associazioni le organizzazioni i soggetti le scuole che hanno deciso di impegnarsi per la sostenibilità a mettersi insieme e a fare rete per portare avanti progetti iniziative nuove che possano avere sempre di più un obiettivo di sostenibilità concreto condiviso e maturo io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola agli altri della fine grazie Laura bravissima veramente grazie a tutti grazie a tutti